Di tendenza platonica Bakli Shirazi Ruzubean, 1128-1209 Mistico persiano islamico di tendenza platonica Prosecutore del grande mistico Al-Alai, morto nel 922 Ruzubean si distingue tuttavia dai Sufi anteriori in quanto rifiuta l'ascetismo che contrappone umano e amore divino e sperimenta l'uno e l'altro come due forme del medesimo amore A 50 anni, su richiesta di un amico, Ruzubean redige la cronaca dei suoi sogni a partire dalla giovinezza Visione di arcangeli, forme celesti, profeti e giardini soprannaturali Commento Un altro esempio di mistico che sconfina nel medium o di medium che sconfina nel mistico In Ruzubean lo sconfinamento è forse più evidente per il suo amore per Platone che è conosciuto come filosofo e non come medium Grazie a tutti i nostri amici Grazie a tutti